Vediamo come creare un Dynamic Web Project per l'esercizio officine. Per prima cosa dovete andare in alto a destra, in Eclipse, e cliccare sull'icona che permette di visualizzare la Perspective Java Enterprise Edition. Si può ottenere lo stesso risultato andando nel menu Window e selezionando Perspective, Open Perspective, Other e poi Java Enterprise Edition e cliccare su Open. Dopodiché si può andare a creare il progetto. Quindi File, New, scegliamo Dynamic Web Project e inseriamo in questa casella Project Name, il nome del progetto, che può contenere lettere maiuscole, lettere minuscole, spazi, indifferente. Deve essere significativo per voi. Officine 2, perché Officine per me esiste già. Quindi bisogna impostare il Target Runtime. Nel caso non ci fosse niente qui, come immagino sia per voi, andate a cliccare su New Runtime, scegliete Apache Tomcat versione 7, quella che avete installata, poi andate avanti e vi chiederà di trovare e specificare la cartella di installazione di Tomcat. Quindi nel mio caso io utilizzo Tomcat dentro a Xamp e voi a seconda di dove avete la cartella di installazione andate con Browse a cercarla. Una volta fatto, potete cliccare su Finish. Per il resto non c'è nient'altro da fare se non andare a cliccare su Finish. Questo è l'albero del progetto con tutte le varie cartelle. All'interno abbiamo la cartella Java Resources, all'interno della quale c'è la cartella SRC, dove noi andremo a creare i package per contenere le classi Java. Invece in Web Content andremo a inserire cartelle e file di HTML, JavaScript, CSS e così via. Vado quindi a creare i due package dentro a SRC. Faccio clic con il tasto destro del mouse, New Package, e uno si chiama Poja, poi ne creo un altro, sempre dentro a SRC, New Package, Servlet, Finish. Vado nella cartella Web Content e creo qui all'interno due sottocartelle, quindi New, Fold, la prima, se ricordo bene, l'abbiamo chiamata HTML, la seconda, JS. Ora non rimane altro da fare che copiare i file che ho condiviso all'interno delle cartelle dei package opportuni. qui c'è il progetto officine, come potete notare nella cartella SRC ci sono i due package, in post c'è quest'officina .java, nel package servlet, insert of servlet.java, mentre in Web Content abbiamo la cartella .js con all'interno del file insert of .js e poi il file HTML insert of .html collocato all'interno della cartella Web Content e non all'interno della cartella HTML. Per lanciare l'applicazione fate click col tasto destro del mouse su insert of .html e scegliete run as run on server, selezionate il server e cliccate su finish. e vedete comparire la pagina HTML però notate che siamo su localhost 2.8080 e quindi stiamo utilizzando, cioè stiamo visualizzando la pagina che viene restituita dal server.